ciao mi chiamo marina rossi sono qui al corso di teta healing base dna2 con gianni voto e barbara brognati organizzato da ricchezza vera da josé anna maria e di tutto questo corso finora mi ha emozionato tantissimo il fatto di poter sentire la voce dei miei angeli e mi è stato comunicato qualche cosa di molto importante per la mia vita e questo mi ha dato una grande gioia una grande fiducia nell'universo nelle mie guide in questo corso ho imparato di avere un grande potere di poter arrivare al settimo piano dell'esistenza e creare creare davvero nella mia vita le condizioni che desidero e non me lo dimenticherò mai più mi chiamo daniele momento più emozionante è stato quando abbia parlato con gli angeli custodi e quando abbia fatto gli scavi a buongiorno mi chiamo maria ines sono al corso di ricchezza vera e che organizzato il teta healing ed è stata un'esperienza straordinaria continuerò i prossimi corsi che ci saranno la parte più emozionante è stato veramente il che aveva chiamato diciamo la parte chiamata scavo che scavi in te stesso e vedi che cosa c'è da andare a ripulire è un'altra cosa che mi ha emozionato il poter comunicare parlare sia con gli angeli che con gli animali ecco per me questi sino ad ora sono state le cose che mi hanno veramente entusiasmato da conosco giosè e anna da circa due mesi e ho cambiato interamente tutto di me ho iniziato con gli occhi sono diventati più luminosi con la pelle diventata più bella più luminosa e con il mio sentito interiore che mi sento veramente bene 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 io lo consiglio a chiunque ciao ragazzi la prima cosa che mi viene in mente di dire di questo corso che è entusiasmante ve lo consiglio mi hanno insegnato molte cose nuove e espresse con un con un modo diverso anche un modo che resta dentro ve lo consiglio a tutti il momento più emozionante di questo di fino adesso è stato quando ho scavato quando ho scavato nel mio nelle mie emozioni nel mio subconscio ma la mia vita era già bellissima prima adesso penso che sarà illuminata che è un valore giunto insomma e dopo insomma mi rendo conto che sto acquistando altri grandi amici una nuova famiglia e questo è ancora più entusiasmante ciao mi chiamo barbara sarti sono al corso di theta healing base organizzato da ricchezza vera è bellissimo loro sono meravigliosi e ci stanno insegnando questo strumento veramente efficace potente però pratico per riuscire a migliorare se stessi cambiare la propria vita togliere le credenze limitanti insomma per fare un percorso di crescita molto importante sono jacopo e lei elisa sorella siamo in corso di theta healing corso molto bello non sapevo prima cosa si trattasse invece è stato un risveglio possiamo richiamarlo un po sconvolgente sconvolgente momento in più emozionante tutto il corso sì e anche iniziare a prendere coscienza di chi siamo veramente uscire un po dagli schemi che ci hanno trasmesso fino adesso e non avere paura di uscire dagli schemi ora abbiamo uno strumento in più che ci può aiutare a gestire queste credenze diciamo la nebbia si sta diradando sì io prima di arrivare qui stavo già iniziando a sentire questo cambiamento e sì questo mi sta dando il gps per iniziare a diciamo così a navigare non più a vista ma con qualcosa di interiore una luce interiore diversa aiuta a fidarsi per di se stessa mi chiamo allina zacharie sono qui al corso di theta healing con ricchezzavera.com con gianni e barbara abbiamo fatto tre giorni di corso fantastico su nostre credenze la mia esperienza è quella di grande trasformazione prima del corso avevo molte molte dinamiche forti e adesso li sento li sento li sento andare via li sento sciolte non ci sono più è fantastico una tecnica sorprendente c'è praticamente puoi lavorare tutto quello che pensi che non vada bene con questa tecnica trasformando tutto per il meglio e per il bene tuo e dei di tutti quelli che ti stanno attorno e lavorando ovviamente su se stessi è una cosa fantastica un percorso meraviglioso grazie grazie a gianni grazie a grazie a barbara grazie a giose grazie anna maria è qualcosa che dovrebbero fare tutti a mio avviso grazie sono roberta borsari sono al corso di theta healing è stato qualcosa di straordinario perché è come se le risposte che avevo sempre cercato lentamente stessero arrivando e tutto quanto stesse prendendo il suo ordine una cosa veramente straordinaria sono una serie di risposte a quelle domande che nella vita ci facciamo e a cui tante volte non riusciamo a trovare risposte qui arrivano arrivano come se fossero la cosa più naturale del mondo veramente un corso straordinario sono aperta al massimo al massimo che la vita mi potrà dare sicuramente ciò che sarà differente sarà la attitudine e l'atteggiamento con cui affronterò le diverse le vicissitudini anche le cose belle della vita quindi questo assolutamente è quello che farà veramente la differenza elisabetta cresce da pescara in questi corsi si stanno palesando tante emozioni che avevo tenuto sopito in quest'arco di anni ed è una cosa meravigliosa la cosa più che mi ha colpito questa mattina veramente e aver capito che anche i nostri peggiori tra virgolette nemici sono i nostri alleati sono quelli che ogni giorno ci insegnano e perché siamo venuti su questa terra quelli che ci danno più amore e che in quel momento noi non li accettiamo perché il nostro ego fa sì che li vediamo solo come nemici invece ci insegnano a guardarci dentro di noi e a illuminarci tutte le credenze che ci hanno inculcato in quest'arco di anni me le tenevo belle attaccate addosso e crescevano con me adesso che so come gestirle effettivamente sono cambiate da oggi e continueranno a cambiare e per cui un taglio netto grazie io lo consiglio a chiunque vi saluto vi mando un bacio amore e gratitudine